Siamo gli stendifilo! C'è nessuno? Non c'è nessuno! Eh? Facciamolo passare di là! Prendo una sedia! Sì! Ma tu guarda che rancio danno a questo! Deve essere un capocciono! La sedia! Ecco la sedia! Stai attento eh! Non ti preoccupare! Ecco qua! Il primo è fatto! Ecco fatto! Puoi attaccare il telefono? Calma, non c'è fretta! Se lo dici tu... Porco! Hai capito quanto mangia sto cornuto? Cosa fai mangi? Guarda che se ne accorgi! Glielo sistemo subito! Quante pietanze! Questi capoccioni! Sbaglio stai mangiando tutto! Sbaglio stai mangiando tutto! Che delizio! Dio! Andiamo, io ho finito! Io no! Ciao! Allora! Allora!